Il mondo è costellato di meraviglie architettoniche, ogni giorno che passa sbucano fuori dal nulla nuovi impressionanti grattacieli. Qui st'oggi vedremo alcune costruzioni incredibili, non ordinarie, che sul serio sono certo che ti lasceranno senza fiato. Mi raccomando lasciami un commento qui sotto e fammi sapere qual è quella che ti è piaciuta maggiormente. Se stai pensando ancora alle mete che potresti visitare una volta messo piede sul suolo olandese, allora fatti un girettino a Rotterdam. Qui la follia non ha veramente confini. Vedete queste case storte? Non sono lì solo per bellezza, ma sono delle abitazioni vere e proprie. Questi appartamenti a forma di cubo sono in tutto 39. Ogni casa si regge su piloni esagonali e l'idea originaria dell'architetto era quella di creare una foresta stilizzata. In sostanza il pilone di base fa da tronco e i tetti triangolari da chioma. Ok, serve un po' di immaginazione e di follia, ma non è un'idea pazzesca. Ogni appartamento barra cubo è fatto di tre piani, anche se sembra incredibile a guardarle da fuori. Ancora più incredibile è pensare che sono grandi circa 100 metri quadrati. Al primo livello c'è un ingresso, al secondo una cucina e un soggiorno, al terzo due camera da letto e un bagno. Ovviamente viverci è molto scomodo, infatti i mobili come diavolo li sistemi. Ho letto in giro che dopo 5 anni scappano tutti, però non so se sia vero. Il progetto Eden è un'importante attrazione turistica in Cornovaglia, nel sud ovest della Gran Bretagna. Ma cosa si cela sotto queste enormi biosfere? Semplice, una foresta pluviale. In questo ambiente, dal clima attentamente regolato, trovano spazio oltre 100.000 specie vegetali. In realtà si tratta di un vero e proprio luogo di attrazione. Negli ultimi 10 anni il complesso è ospitato con certi eventi sportivi e, indovinate un po', anche matrimoni. Quindi se sei in cerca di un po' di pace e ti trovi in vacanza nella Cornovaglia, mi raccomando, facci un salto. L'Arabia Saudita nel corso degli anni si è costruita una reputazione sempre più forte. La sua economia sta crescendo a vista d'occhio, così come stanno crescendo anche i grattacieli costruiti al suo interno. Uno dei progetti più imponenti è quello del grattacielo più alto al mondo, che verrà ultimato nel 2020. Misurerà un chilometro e avrà 200 piani. L'intera superficie del grattacielo misura 500 metri quadrati. Ospiterà uffici, appartamenti, negozi, hotel, ristoranti e poi diverse attrazioni turistiche. Ma qual è il costo complessivo? Circa 2 miliardi di dollari. Ne hanno stati previsti 1,2. Però alcuni ritardi burocratici hanno fatto aumentare i costi e allungato la fine dei lavori. Dimenticatevi del grattacielo più alto al mondo? Dimenticatevi delle case storte ad Amsterdam? Perché questo grattacielo costruito in Cina è qualcosa di inverosimile. È un grattacielo orizzontale costruito a 250 metri di altezza. Il grattacielo crystal è una struttura a curva che collega tra loro 4 torri. Pensate che misura ben 300 metri di lunghezza. Al suo interno ci sono dei giardini, una piscina e vari ristoranti. Se ciò non bastasse, lo skybridge si trasforma anche in un gigantesco raggio di luce durante la notte, illuminando il cielo con uno spettacolo veramente magnifico.